Abbiamo visto come un vettore cat generico abbia come insieme rappresentativo i numeri dati dai prodotti bracket tra i bra fondamentali e lui stesso. La questione che ora desideriamo esaminare è come si possa rappresentare un operatore lineare. L'insieme rappresentativo di un operatore lineare è dato semplicemente dai numeri risultanti dal prodotto triplo bra operatore lineare cat dove come operatore lineare rimane sempre fisso l'operatore lineare di cui si vuole trovare l'insieme rappresentativo e invece nella posizione del bra e nella posizione del cat vi sono rispettivamente un bra fondamentale e un cat fondamentale e naturalmente al variare di questi, del bra fondamentale e del cat fondamentali, si producono tutti i numeri dell'insieme rappresentativo. L'operatore lineare lo possiamo denotare ad esempio con la lettera greca alfa. Invece per denotare i bra fondamentali e i cat fondamentali utilizzeremo la solita notazione. Stiamo considerando xi1, xi2, puntini puntini, xi u come insieme completo di osservabili che commutano. Perciò un bra fondamentale lo possiamo denotare ad esempio con parentesi angolare aperta, xi1 primo, puntini puntini, xi u primo. Invece, in maniera analoga, un cat fondamentale lo possiamo indicare con parra verticale, xi1 secondo, puntini puntini, xi u secondo, chiusa parentesi angolare. Abbiamo detto che l'insieme rappresentativo di un generico vettore cat è costituito dai numeri risultanti dai prodotti bracket tra i bra fondamentali e tale vettore cat. Perciò, mantenendo fisso il cat fondamentale nel prodotto triplo bra fondamentale operatore lineare cat fondamentale visto prima, possiamo osservare come tale prodotto triplo mantenendo fissi operatore lineare e cat fondamentale al variare invece del bra fondamentale da una serie di numeri che costituiscono l'insieme rappresentativo del cat in cui l'operatore lineare manda il cat fondamentale. Inoltre, determinare il cat in cui l'operatore lineare manda il cat fondamentale determina lo stesso operatore lineare. Ora consideriamo per semplicità il caso di una singola osservabile xi che da sola costituisca un insieme completo di osservabili che commutano e che abbia autovalori discreti. Che possiamo denotare ad esempio con xi primo, xi secondo, eccetera. E poiché xi costituisce da sola un insieme completo di osservabili che commutano, ad ogni autovalore di xi corrisponde un solo autostato. Un bra fondamentale lo possiamo indicare semplicemente con parentesi angolare aperta, xi primo, barra verticale. Un cat fondamentale lo possiamo indicare semplicemente con barra verticale, xi secondo, chiusa, parentesi angolare. L'insieme rappresentativo di un operatore lineare che possiamo denotare ad esempio con la lettera greca alfa sarà dato dai numeri risultanti dal prodotto triplo, bra fondamentale, operatore lineare, cat fondamentale, al variare di questi bra fondamentale e cat fondamentale e invece tenendo fisso l'operatore lineare alfa. E poiché gli autovalori sono discreti, lo abbiamo supposto in questo caso particolare, possiamo disporre i numeri dell'insieme rappresentativo in una tabella, o meglio, in una matrice. Ogni numero dell'insieme rappresentativo dell'operatore lineare è così un elemento di tale matrice ed è individuato univocamente dalla riga a cui appartiene e dalla colonna a cui appartiene. Ok? Perché avendo sia riga che colonna individuiamo univocamente un solo elemento di matrice. Possiamo ad esempio denotare gli autovalori dell'osservabile xi con xi con ad apice 1, xi con ad apice 2, xi con ad apice 3, eccetera, eccetera. Non si tratta ovviamente di una potenza, ma semplicemente di un indice posto ad apice per distinguere i vari autovalori. Perciò un elemento della matrice i cui elementi costituiscono l'insieme rappresentativo dell'operatore lineare alfa sarà bra xi con ad apice il numero della colonna. In base a questa disposizione scelta si può osservare che all'interno di ogni colonna rimane fisso un ket fondamentale e varia invece il bra fondamentale, perché il bra fondamentale varia da riga a riga. E in maniera analoga all'interno di una riga rimane fisso un dato bra fondamentale, il bra fondamentale di quella riga. E invece all'interno di una riga varierà il ket fondamentale. Perciò ogni colonna è l'insieme rappresentativo del ket in cui alfa manda il ket fondamentale che rimane fisso in tale colonna. E ogni riga è l'insieme rappresentativo del bra in cui alfa manda il bra fondamentale che rimane fisso in tale riga. Concludiamo questa sezione dicendo che si dicono elementi diagonali della matrice, elementi della matrice che sono individuati da un numero di riga e un numero di colonna uguali tra loro. Ora consideriamo alfa uguale ad 1, ossia consideriamo l'operatore identità. L'operatore identità manda ogni bra in tale bra stesso e manda ogni ket in tale ket stesso. Perciò gli elementi della matrice corrispondente all'operatore identità saranno dati da prodotti bracket tra i vettori fondamentali. E scelta una rappresentazione ortogonale e normalizzando i vettori fondamentali di tale rappresentazione ortogonale, possiamo normalizzarli perché stiamo parlando di autovalori discreti, un elemento di matrice che sarà bra x' ket x' x' questo prodotto bracket sarà uguale a delta con apedice x' x' è uguale ad 1 nel caso x' sia uguale a x' e invece è uguale a 0 nel caso x' sia diverso da x' Così abbiamo ottenuto una matrice i cui elementi diagonali sono pari ad 1 e tutti gli altri sono invece pari a 0. Tale matrice è detta matrice identica. Ora invece consideriamo il caso in cui alfa sia un operatore lineare reale. Ricordiamo che dire operatore lineare reale è equivalente a dire operatore lineare autoaggiunto, ossia un operatore lineare che coincide con il suo aggiunto. Per un operatore lineare generico alfa vale la seguente equazione. bra b aggiunto di alfa ket p uguale al coniugato del prodotto triplo bra b operatore lineare alfa ket b E considerando invece che alfa sia un operatore lineare reale si ha che alfa coincide con il suo aggiunto alfa coincide con l'aggiunto di alfa L'aggiunto di alfa è denotato con alfa con il trattino sopra E perciò si ha che il prodotto triplo tra il bra b aggiunto di alfa ket p è uguale al prodotto triplo bra b operatore lineare alfa ket p In sostanza possiamo togliere il trattino sopra o aggiungerlo su alfa operatore lineare reale senza cambiare il risultato poiché proprio alfa coincide con il suo aggiunto Perciò considerando alfa un operatore lineare reale si avrà che bra x i primo alfa ket x i secondo è uguale al complesso coniugato di Bra x i secondo alfa ket x i primo Applicando tale relazione agli elementi diagonali della matrice rappresentante l'operatore lineare reale alfa si ottiene che bra x i primo alfa ket x i primo è uguale al complesso coniugato di bra x i primo alfa ket x i primo Cioè ogni elemento diagonale della matrice è pari al suo complesso coniugato Quindi gli elementi diagonali della matrice devono essere numeri reali Invece ognuno degli elementi non diagonali della matrice rappresentante un operatore lineare reale sarà pari al complesso coniugato dell'elemento ad esso simmetrico rispetto alla diagonale della matrice Perciò la matrice associata a un operatore lineare reale è una matrice ermitiana ossia una matrice coincidente con la propria trasposta coniugata La matrice trasposta coniugata è detta anche matrice aggiunta Perciò una matrice ermitiana si dice anche matrice autoaggiunta Così in conclusione ad un operatore lineare reale detto anche operatore lineare autoaggiunto corrisponde una matrice ermitiana detta anche matrice autoaggiunta Ora consideriamo il caso in cui alfa sia uguale a xi la nostra osservabile che da sola costituisce un insieme completo di osservabili che commutano e dotata di autovalori discreti Poiché braxi primo xi è uguale a xi primo braxi primo si avrà che braxi primo xi ket xi secondo è uguale a xi primo moltiplicato per il prodotto bracket braxi primo ket xi secondo e braxi primo per ket xi secondo dà il nostro delta con apedice xi primo xi secondo che è uguale ad 1 quando xi primo e xi secondo coincidono ed è uguale a 0 quando invece sono diversi Poiché delta con apedice xi primo xi secondo è nullo quando xi primo è diverso da xi secondo si capisce subito che tutti gli elementi non diagonali della matrice sono pari a 0 e invece gli elementi diagonali della matrice saranno pari agli autovalori dell'osservabile xi definiamo come matrice diagonale una matrice i cui elementi non diagonali siano tutti nulli perciò la matrice che rappresenta l'osservabile xi sarà una matrice diagonale avente come elementi diagonali gli autovalori di tale osservabile xi considerando ora alfa uguale a f di xi in maniera del tutto analoga si ottiene che la matrice che rappresenta f di xi è una matrice diagonale avente come elementi diagonali i valori in cui f manda gli autovalori di xi ora consideriamo invece la matrice che rappresenta il prodotto alfa beta tra due operatori lineari alfa e beta l'elemento generico di tale matrice sarà braxi primo alfa beta ket xi secondo sfruttando ora la relazione tra i vettori fondamentali che da l'operatore identità ossia 1 operatore identità uguale sommatoria in xi terzo di ket xi terzo braxi terzo si giunge al fatto che l'elemento generico della matrice che rappresenta il prodotto alfa beta è sommatoria in xi terzo braxi primo alfa ket xi terzo braxi terzo beta ket xi secondo e perciò si capisce che la matrice che rappresenta il prodotto alfa beta è semplicemente il prodotto tra le matrici che rappresentano rispettivamente alfa e beta sappiamo che il prodotto tra operatori lineari non è commutativo come tra l'altro non è commutativo il prodotto tra matrici finora abbiamo esaminato il caso in cui una sola osservabile xi che da sola costituisce un insieme completo di osservabili che commutano abbia autovalori discreti ora esaminiamo invece il caso in cui essa abbia autovalori continui come nel caso precedente l'insieme rappresentativo di un generico operatore lineare alfa sarà braxi primo alfa ket xi secondo tuttavia in questo caso gli autovalori sono continui perciò xi primo e xi secondo possono variare con continuità perciò in questo caso non potremo disporre in una matrice tali numeri costituenti l'insieme rappresentativo di un operatore lineare tuttavia si potrà invece fare generalizzando il concetto di matrice una matrice generalizzata nel caso di autovalori continui ha un numero infinito di righe e di colonne il suo numero di righe e il suo numero di colonne sono un infinito della stessa potenza dei punti di una retta mentre il numero totale dei suoi elementi è un infinito della stessa potenza dei punti di una superficie ora come abbiamo fatto nel caso precedente andiamo a vedere quale sia l'elemento generico di tale matrice nel caso in cui alfa sia pari all'operatore identità nel caso in cui alfa sia pari a xi e nel caso in cui alfa sia pari ad f di xi semplicemente andando a prendere le formule ottenute nel caso degli autovalori discreti andiamo a sostituire al posto di delta con appendice xi primo xi secondo delta aperta tonda xi primo meno xi secondo chiusa tonda e quindi il delta di Dirac perciò si avranno le seguenti equazioni bra xi primo 1 cat xi secondo uguale delta aperta tonda xi primo meno xi secondo chiusa tonda bra xi primo xi cat xi secondo uguale xi primo delta aperta tonda xi primo meno xi secondo chiusa tonda Ora consideriamo alfa-beta, il prodotto tra due operatori lineari alfa e beta. Nel caso degli autovalori discreti vi era una sommatoria. Nel caso attuale degli autovalori continui ci sarà un integrale. L'elemento generico braxi' alfa-beta-ket-xi-secondo è uguale a integrale braxi' alfa-ket-xi-terzo-de-xi-terzo-braxi-terzo-beta-ket-xi-secondo. Inoltre dobbiamo dare la definizione di matrice generalizzata diagonale. In questo caso in cui abbiamo ξ, una sola osservabile, costituente da sola un insieme completo di osservabili che commutano, con autovalori continui. Bene, in questo caso si dice matrice generalizzata diagonale, una matrice avente gli elementi dati da F di ξ' è un numero che può eventualmente dipendere da ξ' e la delta è la delta di Dirac. Con tale definizione il prodotto tra matrici generalizzate diagonali è commutativo, proprio come è commutativo il prodotto tra ordinarie matrici diagonali. Ma come sarà invece una matrice nel caso di una sola osservabile, costituente da sola un insieme completo di osservabili che commutano, con autovalori sia discreti che continui? In questo caso la matrice che rappresenterà un operatore lineare avrà sia righe e colonne discrete, sia intervalli continui di righe e colonne. Ora invece consideriamo il caso generale. Siano ξ' 1, puntini puntini, ξ' u, osservabili che costituiscono un insieme completo di osservabili che commutano. In tal caso l'elemento generico della matrice rappresentante un operatore lineare alfa sarà Dobbiamo dare anche in questo caso la definizione di matrice diagonale. Una matrice diagonale è definita, in questo caso, come una matrice avente come elemento generico Bra, ξ' 1 primo, puntini puntini, ξ' u primo, omega, ket, ξ' 1 secondo, puntini puntini, ξ' u secondo, pari a C' u primo, delta con apedice ξ' u primo, ξ' u secondo, puntini puntini, delta con apedice ξ' u primo, ξ' u secondo, delta aperta tonda, ξ' u più uno primo, meno ξ' u più uno secondo, chiusa tonda, puntini puntini, delta aperta tonda, xxi' u primo, meno ξ' u primo, meno ξ' u secondo, chiusa tonda. Tale definizione è legata al caso in cui le osservabili con indice da uno a v, compresi, abbiano autovalori discreti e le osservabili con indice da v più uno a u abbiano autovalori continui. Grazie. 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 Grazie.